e cometa burlona nella galassia blocchi ritmici ce l'andiamo a fare che c'è todd luigi c'è una lettera per te richiesta di aiuto ok se ti occupi di lavoretti vari nello spazio ho qualcosa che fa al caso tuo raggiungimi al più presto nella galassia bufera spaziale quindi abbiamo due missioni da fare arrivederci e alla prossima lettera andiamo a fare prima la cometa burlona luigi ci saluta ok quindi siccome non ho visto dov'era esattamente andiamola a cercare qui galassia bufera spaziale il mondo che abbiamo visto prima qui c'è ancora una stella e inoltre abbiamo una missione galassia blocchi ritmici questa ce la facciamo dopo adesso voglio andare a fare questa qui bufera spaziale quindi primo livello giustamente nel quinto mondo andiamo e torniamo nel tubo vai eccola qua stella nascosta anzi cometa burlona ed è qui percorso elettrizzante speriamo di trovare di trovarla non mi fa vedere altro va bene e niente allora continuiamo facciamo attenzione stavolta conosciamo già il mondo e anche qui c'è luigi è ovvio no il fantasma di luigi giusto e non ci stavo ripensando attenzione agli amperini ci arrivo è da qui no attenzione non perderci va bene ok sappiamo quello che c'è da fare basta seguire semplicemente il livello e magari racimolare qualche astroscheggia in più che male non fanno mai e nel frattempo anche ritrovato la posizione perfetta per il sensore ma quindi o qui sopra non posso passare giusto teoricamente potrei vediamo certo tocca fare attenzione queste parti ma soprattutto vedere dove sia ci sono anche ecco delle frecce che ci indicano il percorso da fare quindi non è proprio complicatissimo si fa per dire astroschegge vai ci siamo oh mio dio qui con l'unico agile balzo bene e altro non c'era quindi bene anche qui sappiamo come fare dobbiamo farci inseguire dalla bombomba però prima le astroschegge le prendiamo eccoci qua pa bombomba vieni fai il mio stesso percorso da brava eh ho sbagliato riproviamo vai qui vai e otteniamo anche il fungo energia spero che sia il percorso giusto comunque che tante volte ecco via prese tutte checkpoint qui ci sono i maledetti trottolini ma io vado oltre ormai aspetta io penso di poter anche passare me la sono fatta scoppiare in mano praticamente e le va posso toglierli di mezzo questi rompiscatole chi è quel coso ah ok sono i schifetti dorati che responono ok vita extra zona discretamente tranquilla e tu che c'è stai cercando una super stella ne ho trovata una nel cestino prima eccola ma aspetta un attimo non crederai di averla gratis che mi dai in cambio e te pare un attimo che c'ho la maglietta ecco lo sai che amo quelle cosette rosse perché non cerchi di farne venire una qua ok le trottoline gli piacciono ok quindi facciamoci inseguire da una trottolina che erano per l'appunto da queste parti non tu ecco vieni ok aspetta ah no ok mi sa che quello spawner rigenera solo i trottolini dorati pigliacchi ma che cosa mi stai dicendo che io devo fare tutto questo percorso proviamoci dai vieni trottolino vieni bravissimo vieni ok non mi chiedete come ho fatto a schivarlo vieni qui trottolino vieni qui bravo bravissimo si trottolino 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 vieni qui grande fatta ah che bello grazie oh stavo quasi per dimenticare puoi avere questa super stella e ci mancherebbe che ti scordavi ah bello astroscheggia e stella bam 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 bello mi faccio un pochino più qua ecco qua eppure questa è fatta oh eh pa 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 75 cominciano a essere un po' queste stelle in super mario 64 saremmo stati messi molto bene non posso crederci hai portato un tutto fare mi auguro che non voglia dire che non voglia dare qualcosa da fare a tutti ora sono in due forse finalmente avrà la possibilità di riposarsi un pochino chissà se ci dà una stella anche lui andiamo a vedere poi ricordiamoci anche lo sfavillotto cinciottoso quindi questo è il primo quello che mi ha dato una stella adoro quei piccoletti marroni qui invece ehi tu hai l'aria di essere una brava persona perciò voglio farti un regalo ecco di un fugo one up un'altra bene mi chiedo se farà così ogni volta che riavvieremo la partita no intanto ah adesso c'era la sfida da fare c'è ancora una stella qui nella galassia spettri vaganti ma ce n'era un'altra nella galassia blocchi ritmici al terzo mondo quindi è lì che adesso noi andiamo mappa dei mondi terzo mondo eccola lì qui voglio proprio vedere stelle argento a velocità doppia ok non so se la velocità beh sì la velocità doppia sarà quella dello scambio dei blocchi ovviamente eh sì molto più veloce rispetto a prima proviamo eh sì c'è circa un secondo tra un blocco e l'altro non mi faccio autorizzate con la giusta tempistica non dovrebbe essere impossibile Yoshi parca miseria oh gumba non voglio perdere subito Yoshi quindi con calma ho perso uff vai totto ok no oh mamma mia oh mamma ho perso il tempo aspetta fatto oh grazie qui c'è un nido di Yoshi quindi se lo dovessimo perdere altro checkpoint e lì sopra mi farò due grasse risate intanto passa una sirena vabbè sto registrando sti cavoli dai allora mio dio allora concentrazione adesso faccio dei salti troppo ampi ok meno male che ci sono delle piattaforme stabili dobbiamo andare lì sopra ho tre stelle ne mancano due dov'è l'ultima ah eccola laggiù eh aspetta mio dio eccomi wow andata immagino che la stella ricomparirà lì in cima alla piramide perché certo è ovvio che faccio me la rischio ah si sono bloccati meno male vai oh mio dio era vuota qui a posto altra stella recuperata e vai così mi lasci 76 galassia completata buono quindi ora vado di fare di nuovo una panoramica tutto 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 e poi ci sono i nuovi mondi torniamo quindi dai fantasmini fatta entriamo nel tubo e andiamo là e poi anche da questo quando sarà il momento vuota cioè fatta e qui manca una stella dai stavolta ci chiede di Mario spettro fluttuante ma partiamo direttamente da qui wow ecco che mancava giusto quindi sì ma io pensavo fosse una sorta di ombra che ci correva dietro invece no eppure queste torce sicuramente si potevano accendere in qualche modo ma vatte la pesca d'accordo però comunque lì c'è una vita extra che io non ho recuperato qui vabbè possiamo prendere delle vite ma per ora sto bene così possibile che non esista un modo forse proprio con Mario spettro qui intanto i fantasmini mi stanno correndo dietro questa parte prima non l'avevo mica vista allora aspetta è probabile che si sia aperta proprio un'altra strada visto che c'è un'altra stella e sì eccola non posso entrare nei quadri alla Mario 64 non ancora mamma mia fantasmini statua di Bowser quindi in ordine di crescita ecco ero convinto che stavamo dalla parte giusta e invece manco per niente oh mio dio quanti fantasmi vigolo cieco sono contento che mi dai astroschegge ma ho 300 fantasmini alle costole no un'altra vita se non altro ah qui stiamo tornando indietro e la voce mi sta abbandonando però qua non c'ero andato moneta una porta aperta mi sa che sto tornando proprio eh sì mi sa che sono tornato proprio dall'inizio era sempre così con queste ville infestate lì non è che posso magari saltare no non posso neanche saltare da una parete all'altra fantasmi allora intanto entriamo qui vediamo che succede stavolta voglio andare proprio sparato come non detto niente ci sono riuscito una volta non ci riuscirò mai più almeno due vite le ho recuperate adesso andiamocene da qui secondo me qui non posso fare nulla nulla permesso niente mi hanno preso lo stesso sono morto ragazzi se non trovo una moneta sono bello che fatto ha visto che le ho già raccolte tutte qui ci sono stato bowser io credo che questo sia il percorso giusto ma è tutto chiuso però oh moneta 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 se ci sono monete vuol dire che non ci sono stato sì ecco infatti tubo ok se non altro siamo usciti da qui checkpoint subito eccolo sei mario spettro scuoti il telecomando wii per scomparire ok fatemi ricordare i comandi quindi se premo a ripetutamente volteggio e se premo no se premo b no dovevo scuotere il pad per scomparire scomparendo possiamo attraversare le pareti ovviamente resteremo scomparsi per un breve periodo e oltretutto i fantasmini dovrebbero essere anche i nostri amici ma solo i fantasmini non questo ah permesso brutto ma qui ah giustamente il fantasmino è soggetto alle correnti però qui ci posso entrare no qui sì aio svolazzando allegramente noi stiamo andando avanti ok questo è un caso benissimo colpiti mio dio l'ho sfiorato non mi ha fatto effetto perché ti stai fermando fantasmino ah devo volare ok ma quanti siete sono concentrato perché qui come zona è veramente pericolosa ma c'è una vita e vai ridendo scherzando ragazzi sono tornato a 21 vite è peccato che non vengano salvate ma è una soddisfazione sto tranquillo se dovessi cominciare a morire avrei le spalle ben coperte su su piano piano sento la stella vai su 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 a tutta forza no non ho tutta forza rallenta a media forza eccoci su no ah ok non l'avevo presa vai altra stella recuperata ammazza che lavoraccio ragazzi oh dio mio 77 le gambe delle vecchie che succede ora ah beh giustamente abbiamo portato il fungo oh ma cosa abbiamo qui sembra un fungo bianco chissà perché hai la mania di collezionare cose tanto strane perché sono bellissime quanta roba manca penso di aver raccolto tutto torniamo su che c'è perché mi dici una stella hai 77 super stelle che fortuna eh ma chi ce n'è ancora una nascosta qual è oh mio dio spero che non sia dentro quel labirinto maledetto ecco stelle stelle argento nel libro sorpresa vediamo un po' è il labirinto ce lo dobbiamo comunque fare vabbè stavolta lasciamo perdere Luigi dai andiamo aspetta qui è tutto chiuso e va bene prendendo questa moneta si apre la porta noi le monete recuperiamole così non rischiamo di tornare in posti già visti e credo che sia proprio una cosa voluta dai programmatori per non impiccarci troppo qui c'è il bonus no ok finito meno male andiamo però io qui sopra sento qualcosa credo che sia qui sopra da qualche parte aspetta ok no questa affondava e basta non è possibile tornare indietro vabbè vita persa gratuitamente più per sperimentare che altro peccato che non si possa mettere la visuale in soggettiva avrei fatto una panoramica ma vuoi vedere che aveva a che fare proprio con questo no non è vero l'altra volta le avevo già prese e avevo preso tre stelle stavolta me le prendo ok qui scendiamo ah comunque sarebbe arrivato qui a prescindere piano ah ma passa qui devo sbrigarmi questa l'abbiamo presa aspetta un attimo che qui continua questo continua e corre come un pazzo mio dio guarda che vigliacco che movimenti del cacchio ma la sento la stella eccola no no caccia miseria ok era qui ragazzi quindi perfetto la posso prendere no porca miseria ok secondo tentativo andato male riproviamo la cosa buona è che qui non importa quante volte muoio perché comunque ci sono queste quindi rientrerò sempre in positivo con le vite non rischio di finirle una che ne perdo tre che ne recupero ecco la cosa più sbagliata che posso fare in questo punto è saltare non devo saltare tranne che qui qui dovevo saltare qui era più elevata rispetto alla piattaforma va caccia voglia dai riproviamo e ho capito ma se ci mettiamo pure le morti fatte per distrazione dai forza zio Ivan forza e coraggio ok stavolta si nel frattempo nel punto che ho tagliato mi sono anche andato a cambiare la maglietta perché quella che ho indossata era quella sbagliata penso sia stata fatta in fibre di bottiglie di plastica stavo sudando per niente invece con questa che giustamente è tutta un'altra cosa 78 stelle galassia completata vai a quanto sto ma bene ciao 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 ciao